Ciao, sono Giuseppe Corcella e in oggi video vi mostrerò il mio mockup del terzo movimento del divertimento, Kokel 136, da Wolfgang Amadeus Mozart. Prima di tutto copiato il score in Dorico per poter importare il midi in Cubase per programmarlo. Per questo mockup ho usato le solo stringhe della serie sincronizzata, Violin 1, Violin 2, Viola e Violoncello 1. The samples are loaded inside Vienna Dumble Pro 7 routed to Cubase 12. I used the Orchestra Classic preset for the room emulation. I really like how it sounds. Before starting to program it I created a tempo map using an actual recording of this piece to enhance the realism of my performance. this audio reference is connected to the control room in Cubase so I can switch from my mockup to the recording. Let's now hear the full mockup. . 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.